Emanuele Frontoni, Presidente Compagnia delle Opere Marche Sud, che sta realizzando da diverso tempo questa iniziativa Expandre. Ecco, intanto cerchiamo di far capire che cos'è Compagnia delle Opere e perché si sta impegnando ormai da diverso tempo per la realizzazione di questo evento. Compagnia delle Opere è un'associazione di imprenditori, di persone, di professionisti, di persone della scuola, di tutti quelli che hanno a cuore un lavoro comune, una capacità di lavorare insieme per il bene di tutti. È stato anche il titolo della nostra Assemblea Generale e anche lo spirito di oggi. Una giornata, siamo al sesto anno di espandere, qui in questa splendida cornice della Bazzia di Fiastra, è una giornata di lavoro comune, tanti tavoli di lavoro, 25, tanti seminari, tanti imprenditori e tante persone, anche dal mondo dell'università, anche dal mondo della comunicazione, anche dal mondo della produzione, i libri professionisti, gli avvocati, tantissimi seduti insieme per lavorare e per avere relazioni. Senza quelle relazioni non esiste l'impresa, non esiste una nuova socialità e questo è lo spirito attorno a cui Compagnia delle Opere vuole lavorare oggi a espandere e nei prossimi anni. È un lavoro comune verso una nuova socialità che porterà sicuramente anche sviluppo e lo sviluppo delle nostre imprese è una conseguenza, forse anche non immediata, ma su cui comunque dobbiamo tenere duro, di un nuovo modo di fare, di un nuovo modo di pensare, di un nuovo modo di guardare al mondo. Tre obiettivi principali di Expandere? Expandere ha come titolo sviluppo e innovazione di quest'anno, quest'anno è la tematica principale, quindi le domande se vogliamo che ci poniamo, perché non diamo soluzioni, comunque non diamo ricette per l'uso, sono come far crescere le nostre imprese, come far crescere le nostre persone e come fare innovazione. Sono tutti e tre driver che poi portano a più occupazione, a più sviluppo, se volete anche a più denaro nei nostri territori e soprattutto portano a quella crescita personale necessaria per far funzionare le imprese, per far funzionare le università e per far funzionare la nostra società. Si sfatta un po' un mito che la grande distribuzione sia solo grandi prodotti e non ci sia a questo una corrispondenza poi con le produzioni locali, che sono un po' quello che sta facendo la differenza negli ultimi anni. Bravissimo, in realtà quello che fa la differenza soprattutto in periodo di crisi non è tanto la convenienza, quella ci deve comunque essere, ma quello che ti differenzia dagli altri. L'italiano non va al discount o ci fa poco al discount a differenza di altri paesi, l'italiano comunque anche in periodo di crisi vuole la qualità, soprattutto dal punto di vista alimentare il prodotto che mangia lo vuole mangiare buono e noi da questo punto di vista siamo molto molto sensibili a questi aspetti rispetto ad altre realtà multinazionali, di cui non faccio il nome, ma che forse puntano più a acquistare meglio, ma senza guardare troppo a quella che è la qualità dei prodotti.